Durante i mesi estivi c'è stato un incremento del 12% di richieste di assistenza da parte degli anziani. Stiamo notando, spiega Claudio Dossi, presidente di Hauser Provinciale, che sono sempre più le persone che chiedono ad Hauser di essere accompagnate verso i luoghi di cura, così come crescono i servizi di trasporto verso i centri disabili. Questo, prosegue Dossi, avviene in parecchie zone del territorio lecchese. Proprio per rispondere alle sempre più numerose richieste, servono nuovi volontari che possano dedicare alcune ore del loro tempo al prossimo. Non solo accompagnamento, anche la telefonia sociale, fondamentale per fare compagnia e non lasciare solo gli anziani, è sempre più richiesta. Per questo motivo Hauser ha sottoscritto convenzioni gratuite con importanti comuni del territorio lecchese. La lotta alla solitudine degli anziani è centrale, spiega il presidente di Hauser Provinciale. La scelta innovativa di introdurre le videochiamate è stata molto apprezzata dalle persone anziane e nelle famiglie del territorio. Anche in quest'ambito siamo alla ricerca di nuovi volontari che possano supportare e dedicare del tempo per gli altri. Le sedi che hanno maggiore necessità di nuovi volontari sono Per dare la propria disponibilità è possibile contattare Hauser al numero 0341286096.